Dopo che l'ufficio scolastico regionale ha reso note le nomine dei dirigenti scolastici per il nuovo anno 2011-2012, che andranno a ricoprire cariche a Favara, ad esprimere compiacimento per la nomina di uno dei tre dirigenti, il professor Salvatore Pirrera, proveniente dall'Istituto Comprensivo Generale Macaluso di Racalmuto, da domani nuovo dirigente scolastico del liceo socio-psicopedagogico e scientifico Marty Luther King, e Don Diego Acquisto, parroco della Chiesa San Vito di Favara, che in una lettera lo descrive come persona colta, semplice, alla mano, cordiale e socievole, sempre concretamente impegnata nell'agorà. Sicuramente, scrive il Don, Pirrera accrescerà il prestigio del liceo e realizzerà una svolta significativa ancora di migliore qualità nell'offerta formativa con benefici influssi sul tessuto sociale favarese. Ricordiamo che l'USR ha nominato come dirigente scolastico, supposti vacanti nelle scuole di Favara, anche la professoressa Maria Todaro, che andrà a ricoprire la mansione di dirigente scolastico presso il terzo circolo didattico Luigi Pirandello di Via Grigento, che comprende anche l'ipesso Ghetano Guarino di Via Basile, al posto di Ghetano Arnone, andato in pensione, ed infine la grigentina assunta a Curso Tagano, proveniente dalla direzione didattica di Riesi, che sarà il nuovo dirigente scolastico della scuola media statale Mendola Vaccaro. A Curso Tagano torna da capo d'istituto nella scuola che aveva lasciato qualche decennio fa da insegnante di materia artistica.